Dannazione! Qual è il problema adesso? Un aumento della temperatura. L'Animus si sta surriscaldando. Oh Cristo, c'è sempre qualcosa! Quanto ci vuole? Chi può dirlo? Questi ritardi sono inaccettabili. Voglio una relazione sui progressi a ogni ora. Ci vorrà un po', Desmond. Senti, perché non vai a stenderti? Prenditi un po' di riposo. Perché ti sgrida sempre? È sua la macchina? In teoria, non è lui che l'ha costruita. Chi è stato? Tu? No, l'Avstergo ha un team di ingegneri. Che cosa non ha poi? Ma ho supervisionato io l'assemblaggio. Forse è per questo che ce l'ha tanto con me. È uno stronzo. È sottoposto a grandi pressioni, come tutti noi. Non posso credere che tu lo stia difendendo. Warren mi ha salvato la vita. Quindi se gli va di urlare, faccia pure. Che vuol dire che ti ha salvato la vita? Non sei l'unico che la sera non torna a casa, Desmond. Aspetta, vuoi dire che tu sei prigioniera? Quando sono stata contattata la prima volta, stavo per laurearmi. All'università mi avevano fatto capire che lì non c'era futuro per me. Non avevano apprezzato la mia tesi. La chiamarono pseudoscienza. Dissero che tenermi li avrebbe screditati e messi in imbarazzo. Dovunque era la stessa cosa. Altre università. Società con cui facevo colloqui. Presto mi ritrovai senza un soldo e senza tempo. Ero a tanto così dal fare la cameriera. Poi arrivò una lettera. Da Vidic? Aveva seguito la mia carriera fin dagli esordi. Credeva nel mio lavoro e voleva conoscermi. Discutere del mio futuro. Non ha idea di quanto piacere mi fece sentirlo. Così ci incontrammo. Che cosa avevo da perdere? E ti ha offerto un lavoro? Sì. Qui all'Abstergo, per collaborare al progetto Animus, potevo testare le mie teorie e dimostrare ai professori che si sbagliavano. Come facevo a rinunciare? Mi sono perso la parte in cui sei diventata una prigioniera. A volte mi chiedo se non ci fossero loro dietro a tutto. Se non avessero manipolato gli eventi per rendermi così disperata. Possono farlo. Possono fare di tutto. Non ci pensavo quando accettai di venire qui. Mi dissero perfino che sarei stata segregata. Per sei mesi, massimo un anno. Una volta lanciato il prodotto, la segretezza non sarebbe più stata necessaria. Ma fino ad allora sarei stata un ospite della compagnia. O almeno, questo è quello che mi dissero. E quando l'Animus fu pronto? Arrivarono mentre stavo dormendo. Tre uomini. Armati. Mi trascinarono giù dal letto. Dio. La cosa peggiore è che li conoscevo. Con uno, Richard, pranzavamo insieme a volte. E ora stava per... Facevano gli spiritosi. Io cerchai di scappare. Lui mi colpì. E fu allora che mi disse che dovevo morire. Cristo, e che cosa hai fatto? Niente. Continuava a ripetermi che non era vero. E poi arrivò Warren. Gli intimò di allontanarsi da me. E loro gli diedero ascolto. Gesù. Non è un uomo felice, Desmond. Non direi neanche che è buono. Ma mi ha salvato la vita. Non sono più tornati. E lui ha promesso che non l'avrebbero mai fatto. Quindi sei ancora bloccata qui a lavorare per questi maniati? Ma sono viva. Comunque, devo davvero riparare l'animus. Ci vediamo domani, Desmond. Non sei stanco? Non posso, devo lavorare. Ma che diavolo? Qui è entrato qualcuno. Sembrerebbe un codice d'accesso. Qui è entrata? Grazie a tutti. 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 Noi cambiamo il mondo, ogni giorno, in centinaia di modi diversi. Lo sapeva che quasi ogni scoperta del passato millennio, medica, meccanica o filosofica che sia, deriva dall'abstergo o dai suoi predecessori. La sparata grossa, doc, non le sembra di esagerare? Neanche un po'. Sono dei doni, sono dei doni, signor Miles, di coloro che vennero prima. Continueremo il discorso più tardi, il tempo vola. Buon giorno, buon giorno, buon giorno. Ciao. Ho bisogno che ti sdrai, Desmond. Coraggio, riprenda il suo ricordo. Usa i pugnali da lancio per colpire nemici distanti. Coraggio, riprenda il suo ricordo.